Amici 3B Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a media e lungo termine andiamo a vedere come sarà più o meno il weekend dell'11-12 novembre sull'Italia dico più o meno perché in realtà vivremo giornate molto variabili e instabili ci attende una settimana molto movimentata e quindi anche questo tipo di circolazione necessita di conferme che vi daremo in settimana però gli ultimi dati lasciano intendere che sarà un fine settimana con il progressivo ritorno dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale e quindi anche sul Mediterraneo con quindi condizioni meteorologiche buone al nord e sul versante tirrenico però il medio adriatico e il sud potrebbero ancora risentire della circolazione depressionale che in settimana rimarrà più o meno sempre attiva sul Mediterraneo centrale quindi per il sud Italia e il medio adriatico weekend un po' variabile quantomeno la giornata di sabato poi è credibile che domenica il tempo migliori anche in queste zone quindi si va verso un miglioramento ma con temperature che rimarranno comunque autunnali con questo è tutto ovviamente per aggiornamenti vi aspetto su 3dmeteo.com